L'imprenditore Franco Iachini ha dichiarato di aver fatto un regalo alla città di Teramo accettando l'accordo con il Comune per la cessione della gestione sportiva dello stadio Bonolis. Iachini ha tenuto la sua ultima conferenza stampa come responsabile della gestione sportiva dell'impianto, un incontro con i giornalisti durato oltre 40 minuti. Durante l'appuntamento l'imprenditore ha voluto chiarire alcuni aspetti legati all'intesa raggiunta con il Comune, non risparmiando però critica rivolta alla gestione della vicenda. Ho voluto chiudere la partita perché prevedendo un risultato positivo forse da parte dell'arbitrato, positivo non che avessi vinto l'arbitrato ma anche con un numero di anni richiesti inferiore noi avremmo restituito sicuramente la concessione e di fatto questo ci permetteva di richiedere all'amministrazione comunale il residuo del valore dell'opera che restituiamo che dai calcoli da noi fatti supera i 9-9 milioni e mezzo. Nel frattempo avremmo dovuto tenere finché l'amministrazione non avesse pagato questa somma avremmo dovuto mantenere chiusa la struttura quindi credo che ridare subito lo stadio in questo modo e rinunciare a somme ben più importanti rispetto a quelle che oggi andiamo ad ottenere penso che si possa definire chiaramente senza ombra di equivoco un regalo alla città. L'imprenditore ha anche dichiarato che si auspica che non saranno fatti favoritismi in futuro alla squadra di calcio Città di Teramo. Ma sì perché credo che sia giusto che questo stadio debba avere un suo equilibrio economico l'equilibrio economico lo si determina dai costi e dai ricavi quindi se il città di Teramo non sarà in grado di poter sostenere i costi e quindi chiedere degli sconti questo non va bene non va bene non per la squadra di calcio ma per il rispetto di tutti gli altri sport anche delle altre attività sportive o di eventuali altre attività a cui il comune dovrà rinunciare per favorire una squadra di calcio la squadra di calcio torno a ripetere non è un ente benefico è una società chi vuole tenere una squadra di calcio si deve capiare deve tirare fuori i soldi se uno vuole fare presidente se ha i soldi lo fa altrimenti non possono essere gli altri che gli danno per farlo divertire quindi io vigilerò che questa gestione perché quando sono stato io presidente sia della squadra di calcio che di questo stadio non ho chiesto i soldi a nessuno chiedete un po' al sindaco se sono andato ad avere qualche favoritismo ho nessun favoritismo ottenuto anzi anzi